Sai quanti bambini in Africa muoiono per la diarrea? Tantissimi! Ti dico perché ce li mettono dentro, eh? No, 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 la fanno loro autonomamente, diciamo. Questa è la mia. Loro ce la fanno per i fatti loro e muoiono tantissimissimo. Ma è una cosa impressionante. Per evitare la diarrea bisogna lavarsi le mani. E voi lo so, lo so. Voi direte, ma come io mi lavo le mani? Eh, che se le mani stanno da sta parte, la diarrea viene da quell'altra e come sono collegate le due cose, so collegate. Una saponetta evita la diarrea. E' un altro sistema, però è meglio lavarsi le mani. Più chiama che a meno di una. Più elegante quando... Più elegante quando.. Grazie a tutti